Grazie. Questo non si girano, il metallo è bandato, è bloccato. E la gioca, e la gioca, vediamo, eh, bravo, eh, bravo, l'ho ascoltato molto bene la pezzina. Adesso ho altro tiro complesso, un spazio di misura in angolo con bianca a risalire. Bravissimo. Bella. In posizione scomoda, in posizione scomoda. Non lo so, mi chiede a dire che Massimiliano Corso forse è stato troppo con il resto, eh? Non provavo di farlo. Non c'era poi rimanenza. Aia. 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 E lascia il 3 a 2 a Massimiliano Corso. Secondo regalo e lascia il buco in angolo. Tutte l'aria, lasciate. Incredibile errore da parte di Matrizi. 3 a 2 per Massimiliano Corso. Corso, non si fa pregare. Vedete, è bella gara in recupero. Tutti i due giochi. Ancora lunga la strada, eh. Si gioca al meglio delle 15, si gioca alle 5, perché è il migliore che...